Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino. Oggi è mercoledì 25 novembre 2020 e se non verrà cancellato a colpi di DPCM, tra un mese esatto sarà Natale. Benvenuti alla rassegna stampa del mattino sul canale 17 di Fano TV. Andiamo a vedere subito il santo, poi il tempo e i titoli dei giornali. Oggi è Santa Caterina d'Alessandria, il sole esorgerà alle 7.19, tramuterà alle 16.36. Il tempo per la giornata di oggi, cielo sereno poco nuvoloso, con addensamenti di nuvole basse, temperature minime stazionarie, il lieve diminuzione massima invece in ripresa, attenzione alle foschie e alle nebbie più probabili sulle vallate interne. Domani ancora cielo sereno poco nuvoloso, venerdì 27, giornata fotocopia. Domenica previste temporanee deboli condizioni di maltempo, ma di questo ne parleremo domani. Allora, a proposito di tempo, a proposito di vacanze, di neve, perché di questo si parla in queste ultime ore, la preoccupazione di non poter andare a sciare. Allora, di questo si parla sui giornali anche oggi. Il titolo, anzi la fotonotizia del giornale del Carlino di Pesaro di oggi, proprio sui divieti del governo che scatenano le proteste dei gestori degli impianti sciistici. Il titolo, la stagione in bianco. Poi Covid e infortuni sul lavoro. E record nelle Marche Siamo la provincia con più denunce collegate al virus, 594 casi in maggioranza sanitari. Poi, di taglio basso, ex bancario muore nelle Filippine. Stefano Mazza, stroncato dalla leucemia, l'ambasciata si era mossa per portarlo in Italia. Poi la tragedia di Colombarone. A Pesaro, Silvia, la famiglia ora chiede un milione. Lei guidava, il fidanzato tirò il freno a mano e nello schianto morirono tre persone. Vaccini e pandemia. Per ora non c'è neanche il piano sanitario. Mentre sul fronte sportivo, Massenat, il miglior tiratore da tre punti in bianco-rosso. Poi un'intervista che vedremo tra poco all'ex campione del Milan, Walter Bianchi. La partita più dura per lui adesso è quella contro il cancro. Il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, crisi nera per ristoranti e palestre. Nel settore della somministrazione di cibi e bevande si lavora al 15%. Sono in 5.000 in cassa integrazione. Se i locali sperano nel 3 dicembre il mondo del fitness è in ginocchio e loro dicono ormai è accanimento terapeutico. tamponi, marche da retrocessione, fotonotizia a centro pagina, che è sparita la frenata dei test penultimi in Italia. E poi virus a casa serena di Bellocchi di Fano, ospiti in quarantena, la regione ci aiuti. A Pesaro gli ospedali cercano 30 infermieri via al reclutamento. E poi a Fano, clinica privata, Salta Martini tutela. Il Santa Croce di taglio basso, farazzia profumi costosi. Lo trovano in un cespuglio, arrestato dai carabinieri, un 25enne romeno. Allora, partiamo questa mattina e andiamo a rivedere una notizia che vi abbiamo dato ieri a proposito dell'Inps e dei maxi controlli che sta facendo l'Inps delle Marche sui redditi di cittadinanza. Ne abbiamo approfittato ieri appunto leggendo il Corriere Adriatico che ha parlato appunto già di questa maxi indagine avviata dall'Inps e allora il titolo, il caso dei rifugiati che scompaiono ovviamente con il reddito di cittadinanza. La maxi indagine Inps, il direttore regionale Vitale scrive ai comuni, aiutiamoci perché i soldi vadano a chi ha bisogno e non ai criminali. Cosa scrive Vitale in questa lettera indirizzata ai comuni? Leggiamone un pezzettino. Allora, da un primo campione sottoposto a controllo è emerso un dato preoccupante su 440 posizioni, quindi circa il 25%, sono risultati irregolari e quindi passibili di revoca. Ci appelliamo quindi al vostro spirito, rivolgendosi ai comuni, di collaborazione per poter erogare le prestazioni solo in presenza dei requisiti previsti dal legislatore e quindi di risparmiare risorse pubbliche necessarie in un momento così delicato per le sorti economiche del Paese. Allora, va detto che queste 440 richieste di documenti riguardano in questo momento certificati di residenza, gli stati di famiglia e la titolarità delle abitazioni in cui alloggiano i percettori di questo reddito. Le risposte arriveranno entro 30 giorni, altrimenti automaticamente decade questo reddito di cittadinanza. Dai trend pare che una domanda su 4 appunto sia irregolare e le stime sono destinate a salire. Andiamo e apriamo le pagine dedicate adesso alla pandemia. Ci sono buone notizie. Allora, intanto calano i ricoverati, il contagio rallenta. Per ora però le regioni non cambiano il colore. Il rapporto tamponi positivi crolla al 12,3%, i morti sono 853 in tutta Italia. Il governo è cauto e intende prolungare le restrizioni fino al 3 di dicembre. Per quanto riguarda l'indice RT, che è l'indice di contagio, dobbiamo dire che si sta abbassando. Due settimane fa era a 1,7, poi a 1,4. Adesso è poco meno di 1,2 e sta ancora scendendo. Questo significa che le misure che abbiamo adottato, dicono dal governo, iniziano a dare i loro effetti e che dobbiamo continuare ovviamente a insistere su questa strada. Ora, che cosa si sta prospettando per il Natale? Innanzitutto verranno regolamentate un pochettino i cenoni, tutte le regole che riguarderanno i momenti conviviali. Il titolo, cenone con sé invitati oltre ai conviventi e vogliono vietare la messa di mezzanotte. Credo e spero che questo sia soltanto così una boutade e che non ci sia nulla di vero in tutto questo. Ma comunque, speranza, il coprifuoco vale anche la vigilia di Natale, ma valuteremo. Limitare i posti a tavola agli affetti stretti. Nel resto d'Europa invece si allentano le misure. In Italia resta il nodo degli spostamenti tra le regioni e questo credo invece che sia la cosa più giusta da fare, piuttosto che vietare le messe di mezzanotte, evitare di spostarsi da regione a regione, decide la curva dei contagi. E questo è un po' quello che ci attende in Italia. Ma cosa succede un po' all'estero? Per esempio a Londra si possono fare cene di gruppi, anche di tre famiglie. A Berlino invece un massimo di 10. A Madrid il cenone, quello dell'ultimo dell'anno, per sei persone al massimo e il coprifuoco scatterà a luna. Questa stagione sciolta come la neve è un altro titolo che dà l'idea insomma di quello che si prospetta da qui ai prossimi. Intanto parliamo sì di impianti sciistici, è necessaria chiaramente le condizioni meteo, quindi la neve sia sulle Alpi che sugli Appennini, anche se poi ci sono i cannoni sparaneve e quindi l'importante è che ci sia la temperatura sotto zero, altrimenti anche i cannoni servono a poco. Ma comunque l'amarezza dei gestori delle piste sciistiche del nostro Appennino dopo il no imposto da Conte, così va a rotoli oppure tutto l'indotto. Siamo rimasti fermi a inizio anno, dice Mirko Ravaioli, poi breve respiro in estate e ora c'è un altro blocco. Ritorno a scuola invece, l'obiettivo è quello del 9 dicembre, ma resta il rebus dei trasporti pubblici intesa tra Conte e Azzolina, anche Speranza frena, saranno decisivi i dati sull'epidemia che arriveranno venerdì. Intanto c'è un altro conto che presenta il Covid, qual è? Quello delle culle vuote, non nasce nessuno, le nascite sono al minimo storico, secondo l'Ister potrebbero scendere sotto quota 400 mila nel 2021, è anche un problema se vogliamo di sicurezza insomma. Frenata dei tamponi, le marche scivolano invece in zona retrocessione, per tre giorni maglia nera nei test in rapporto alla popolazione, ieri peggio il Veneto, in una settimana monitorate 717 persone su 100 mila abitanti, il Lazio leader a 2633. Intanto il virus è entrato in 14 case di riposo, sono 260 gli ospiti, risultati positivi in tutta la Regione. La Regione sta monitorando con attenzione un'altra partita complicata, come l'ha definita l'assessore Saltamartini, quella dei contagi nelle RSA. Sempre Saltamartini in un'intervista al Corriere Adriatico di questa mattina dice puntavamo a 5500 test al giorno, ma la fornitura non è mai arrivata e le scorte disponibili sono fino a dicembre. Di che cosa parliamo? Di quali scorte? Dei tamponi, il numero dei tamponi era una delle questioni per le quali siamo finiti in zona arancione e ad oggi rimane un problema. A maggio, nel mese di maggio scorso, la Regione chiese al Commissario Arcuri una dotazione di 262 mila tamponi, però di questi ne vennero consegnati soltanto 146 mila errotti e con quelli rimasti di questa fornitura dobbiamo arrivare, arriveremo fino alla fine dell'anno. Ecco perché non si possono fare, come dire, a volte si lasciano persone che vivono con persone contagiate senza il tampone perché proprio mancano le scorte. Siamo a questo livello. Mascherine non stoppe invece in classe, il garante chiede agli esperti. Perché? Perché le mamme, abbiamo detto più volte, sono preoccupate dei figli che stanno a scuola per tante ore con le mascherine. In tante stanno ricorrendo agli avvocati, quindi alle carte bollate, però adesso su questo provvedimento ci sono dei dubbi e si cerca di capire attraverso il garante se, e quindi gli esperti, se fanno male oppure no ai bambini a scuola. Al via invece la prenotazione, siamo a Pesero, dei saturimetri. Sono 3000, ecco chi ha la precedenza. Ha reso noto ieri il numero telefonico a cui rivolgersi per informazioni o compilazione della domanda. Sapete a Pesero c'è questa possibilità, per i pesaresi che ci ascoltano, c'è la possibilità di avere uno di questi 3000 saturimetri che il Comune di Pesero ha preso da donare appunto alle persone che hanno bisogno, che non possono permettere. Io ne ho comprato uno l'altro giorno, costa sui 40-50 euro, adesso non mi ricordo, però ecco la cifra più o meno è questa. Ci sono queste, c'è questa possibilità. Allora da domani ecco il numero di telefono che volevo darvi, intanto ecco stavo parlando ma cercavo questo numero di telefono qua. Togliamo anche l'evidenziatore, ecco se volete segnarvelo, 0721 17 43 662. Ok? Questo è il numero che è attivo da domani per informazioni o compilazioni delle domande, poi dal 1 a venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 16 e 30. Virus potente sui posti di lavoro in provincia di Pesero. C'è il record di denunce all'INA, il Pesero Urbino registra 594 infortuni collegati al morbo, è il 36,2% dei casi di tutta la regione, 12 decessi, il settore più coinvolto è quello della sanità e il 40% riguarda appunto gli infermieri. Covid e vaccini, il piano non c'è, la regione nessuno l'ha richiesto, la documentazione non è stata presentata al Ministero ma l'assessore Saltamartini assicura, il commissario Arcuri ha voluto solo certezze per la conservazione del vaccino. Sapete che bisogna ordinare dei frigoriferi, il vaccino deve stare a una temperatura molto bassa e su quello dice Saltamartini non ci sono problemi. Intanto l'Asur fa il calcolo appunto sui frigo che dovranno conservarlo. Eugenio Carlotti, Dipartimento di Prevenzione, dice la nostra capacità è di 1300 litri, 600 dei quali garantiscono temperature tra i 60 e gli 80 gradi. Resta però l'incognita su quanti vorranno assumerlo. Intanto Paolo Battistini è ancora presidente, è stato confermato nella carica dell'Ordine dei Medici della provincia di Pesaro Urbino. Tamponi, Marche, Fanalino di Coda, il titolo del resto del Carlino screening di massa impossibile. L'assessore Saltamartini mette a tacere tutte le voci che vorrebbero un test sul modello Alto Adige, non abbiamo personale, dice, ma aumentano le USCA e arrivano anche i test rapidi come quelli di Zaia. Ecco gli aiuti alle famiglie, buoni spesa per 3 milioni di euro, sono i fondi stanziati dal governo per i comuni della provincia. Ad Ancona oltre 500 mila euro che andranno a sostenere chi è in maggiori difficoltà. Questo è per il comune di Ancona per chi ci ascolta da Ancona. Mentre di taglio basso, qua importante, la dichiarazione del governatore Francesco Anquaroli che dice, zona gialla dal 3 dicembre, grazie ai nuovi dati ci spero molto. Il governatore analizza l'andamento del virus e apre a questa possibilità. L'importante saranno i comportamenti. Quindi stando così le cose è facile che dal 4 di dicembre le Marche tornino a zona gialla. Quindi potranno reprire i barri, i ristoranti e tutta una serie di ristrazioni che verranno meno. Però ecco, ancora ci sono dei dati da controllare. Covid invece a Casa Serena. Siamo a Fano, questo è il Corriere Adriatico. Tutte in quarantena, ne abbiamo parlato ieri l'altro, lunedì mattina nel corso della diretta, nella rassegna stampa, nella seconda parte con il marito di una persona che lavora appunto all'interno di questa struttura. Le ospiti sono in gran parte asintomatiche oppure hanno pochi sintomi. Le nove più gravi sono state trasferite nella RSA di Macerata. La referente dice ci mancano due infermieri e ora non riusciamo ad andare avanti. La regione ci venga incontro mentre sotto nuovi boschi urbani, sempre da Fano, si sviluppano su sei ettari per la festa degli alberi la piantumazione in un'area tra statale e ferrovia. Ha sconfitto il Covid invece oggi festeggia 100 anni. È una notizia che arriva e che abbiamo preso dalla pagina del carino di Recanati, si chiama Ernesta Tasso, è stata ricoverata due volte in ospedale durante la prima ondata. La nuora dice è una persona eccezionale, saremo con lei in videochiamata e devo dire complimenti. Insomma, 100 anni e ha sconfitto con due ricoveri poi durante la prima ondata. La morte è un mistero e soprattutto quando andiamo a leggere due pagine, una che ci parla di una persona che è qui da 100 anni, ha sconfitto il Covid e si appresta a festeggiare i 100 anni di vita e l'altra pagina, quella che adesso vi mostro, invece dove il titolo è Morire a 20 anni. Resta un doloroso mistero. Eugenio, esempio estroso di gentilezza e cuore. Ieri ci sono state le esegue di questo giovane Ricci Bartocetti, originario di Monbaroccio, morto di leucemia. La mamma Francesca è entrata nella chiesa di San Carlo con il capo in testa e il cilindro del figlio. Al funerale anche tanti adolescenti. E c'è un articolo che invece vi segnalo sul Carlino di oggi, a pagina 6, da Cantiano. Amedeo Picciolini questa mattina, nei giorni scorsi, ha intervistato Walter Bianchi, che molti ricorderanno, tantissimi ricorderanno, ex campione del Milan. Lui adesso dice lotto con il tumore. Viva Cantiano e con i rossoneri di Sacchi, Gulit e Bambasten ha vinto una Coppa dei Campioni e uno scudetto. E lui dice adesso io non mollo. E qui ci sono le fotografie di Walter Bianchi, per esempio, con la Coppa dei Campioni, vinta a Barcellona nella stagione 1988-89. Qui con la Supercoppa nazionale vinta con il Milan nel 1989. Vedete Berlusconi e grandi campioni del Milan di allora. Sotto invece Bianchi insieme a Devani, allenatore delle giovanili della nazionale. Bianchi lo vedete qui. E sotto invece con la famiglia. La festa per il suo cinquantasettesimo compleanno, con il nipote Manuel e i figli Lucia e Luca. La città piange Tonelli, il dottore degli orologi. Siamo sulla pagina di Fano. Si è spento a 66 anni a causa di un brutto male. Lo storico artigiano, titolare prima della gioielleria La Meridiana e poi di un altro negozio. L'amico Elvio Grilli diceva che era un uomo gogliardico, sempre gentile e generoso con tutti. I funerali dovrebbero essere domani pomeriggio al Duomo di Fano, ma nel momento in cui il giornale è andato in stampa non è ancora stato confermato l'orario. Per quanto riguarda invece l'altra pagina di Fano del Carlino, il medico in pensione torna in corsia a 69 anni. Si chiama Antonio Dottori, ha risposto all'appello di Marche Nord. Vado a dare un po' di respiro, dice lui, a quei poveracci del pronto soccorso, poveracci in senso assolutamente affettuoso e buono. Mi sento pronto ad affrontare questa guerra, dovrò solo ripassare un po'. E devo dire, è una scelta anche coraggiosa. Nella prima ondata avevo rifiutato perché soggetto a rischio, ora però sono più sicuro. A rischio anche i 50 posti della clinica privata, titolo del Carlino di Fano. Il Consiglio regionale boccia la mozione Ruggeri dei 5 Stelle per destinarli alla sanità pubblica vanno inseriti in un discorso più ampio. L'assessore Saltamartini dice valutare la congruità del nuovo progetto con le esigenze di Fano e di tutti. 400 bebè, un albero ciascuno, gesto simbolico per festeggiare i nuovi nati nel comune di Fano. Già 89 mila in metri quadrati di superficie imboschita. Fanghi del porto a Torrette di Fano. Entro marzo ce ne liberiamo, dice l'assessore regionale Aguzzi. Vicenda iniziata nel 2008, quando lui era sindaco di Fano. Ora siamo pronti per l'appalto. Le lungaggini, ritardi dovuti alla mancata costruzione della cassa di colmata di Ancona, collaudata solo nel 2018. La pediatra invece, questa è una notizia che interesserà sicuramente quelli che ci seguono da Pergola, la pediatra Biagiotti lascia il paese. Tutti gli assistiti saranno assegnati alla dottoressa Ragnoni. I fanghi prelevati a marzo riecco a Guzzi, 12 anni dopo, titolo invece del Corriere Adriatico di Fano. Il neossessore promette la soluzione del problema nato quando era appunto sindaco. Il ritardo dovuto alla realizzazione della cassa di colmata. Poi gli studenti che creano il manifesto contro la violenza sulle donne oggi dalle 10 del mattino in consiglio comunale monografico in diretta su Facebook. Salta Martini, a Fano i 50 posti letto ma la mozione anticlinica è bocciata. Marta Ruggeri non accoglie l'invito a ritirare l'atto, solo il Movimento 5 Stelle per la sanità pubblica. Nel PD Carancini rileva la contraddizione del centrodestra. Biancani dice li taglieranno. La tomba di Raffaello a Urbino trova casa. La riproduzione a grandezza naturale sarà posizionata per sempre in centro a partire da queste festività. Esposto alla Corte dei Conti a Fossombrone per due incarichi professionali. La minoranza contesta i provvedimenti in deroga all'iter del mercato elettronico e poi dalla Valcesano, Marotta, la danza delle scarpette rosse, artisti uniti contro la violenza. Comune associazione Chiaroscuro danno vita a un grande mosaico l'inaugurazione con l'assessore regionale Latini. Poi a Tc di Pesaro 1 si è dimesso malavolta ma ora vigileremo sull'assemblea ambito territoriale di caccia svolta annunciata da Carloni dopo il commissariamento richiesto dalla mozione di Rossi che vedete nella fotografia. C'è l'accordo invece sugli store del King a Senigallia. Arrivano Calliope, credo che sia questo il nome è Terranova. I due grandi contenitori nel quartiere di Borgomolino diventeranno regni dell'abbigliamento. Viaggio nel Covid Hotel invece, camere sul mare, solo 17 stanze su 44 totali. Sono occupate al momento il presidente della Caritas di Senigallia dice abbiamo un piano per far passare il tempo agli ospiti anche perché poi bisogna starci dentro questi hotel. La figlia di Melania cambia cognome, via Parolisi ora si chiama Vittoria Rea, il fratello della vittima quando facevano l'appello a scuola mia nipote si sentiva a disagio. Dunque non sente più il padre da quattro anni ma ora è serena e circondata dall'amore di tutti. Abbiamo ancora tempo e spazio per ripassare la prima pagina dei giornali. Allora andiamo a vedere di nuovo i titoli e questa è la pagina del Carnino di Pesaro. Covid, infortuni sul lavoro e record nelle Marche Siamo la provincia con più denunce collegate al virus. 594 casi in maggioranza sono denunce che arrivano dai sanitari. Poi la stagione in bianco. I divieti del governo scatenano le proteste dei gestori e sul fronte invece della pandemia e dei vaccini per ora non c'è neanche il piano sanitario ma le buone notizie come abbiamo visto riguardano invece il calo dei contagi e questo potrebbe far tornare le Marche come abbiamo visto in zona gialla tra qualche giorno ovvero dal 4 di dicembre. Incrociamo le dita. Intanto il titolo del Corriere Adriatico, crisi, incrociamo le dita, crisi nera per ristoranti e palestre nel settore della somministrazione di cibi e bevande si lavora al 15% sono in 5.000 in cassa integrazione. Se i locali sperano nel 3 dicembre il mondo del fitness però è in ginocchio. Ormai dicono loro contro di noi accanimento terapeutico. Poi c'è il problema dei tamponi nelle Marche. Marche da retrocessione, la frenata dei test. Siamo penultimi in Italia. E poi c'è l'indagine dell'Inps che si sta svolgendo nell'Inps dai rifugiati fantasma con il reddito di cittadinanza e c'è questa notizia che pubblica sulla pagina 7 il Corriere Adriatico di oggi, questa max-indagine sui redditi di cittadinanza che è stata avviata dall'Inps nelle Marche. E c'è una quota interessante anche di rifugiati che passano dal progetto Sprar e che ottengono asilo e poi spariscono, si rendono irreperibili. Ieri il direttore regionale dell'Inps, Vitale, ha scritto ai comuni. Abbiamo visto poco fa un pezzettino di questa lettera. Poi farazzia dei profumi costosi, lo trovano in un cespuglio, arrestato dai carabinieri un 25enne romeno, si era nascosto nel verde della San Giovanni. Ok, sono le 7.24 per chi ci segue in diretta. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento di questa sera con il telegiornale Occhio alla Notizia. E poi vi ricordo anche che alle 16.30 di oggi pomeriggio e domani alle 21.20 circa insieme al Circolo Bianchini ci sarà questo importante incontro e questo appuntamento che si intitola Esplorare i confini. L'appuntamento di quest'oggi sarà Eta Hoffman nella letteratura e nella musica. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti e a domani.